Dopo circa otto mesi dall'operazione della squadra mobile della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocere Inferiore, che vide coinvolti a vario titolo 19 soggetti gravemente indiziati di far parte di un'associazione per delinquere transnazionale dedicata alle repine a furgoni portavalori e in danno di istituti di credito connesse con l'uso di armi anche da guerra, sono state emesse dal Tribunale di Nocere Inferiore le condanne per nove soggetti. Domenico Cocco e Angelo Carbone sono stati condannati a 20 anni di carcere, Antonio De Santi a nove anni e due mesi, Angelo Pugliese a otto anni e quattro mesi, Salvatore della Ratta a due anni e due mesi, Antonio Panico a due anni, la guardia giurata della Cosmopol Ciro De Falco ad un anno, Luigi Delicarri a due anni e Ciro Bruno a un anno e due mesi. Hanno batteggiato invece Francesco Cucchiarale e Errand Salacu, condannati rispettivamente a due anni e cinque mesi e due anni e otto mesi. La soluzione infine per Luigi Garmiele e Lorenc Uquai.